Benvenuti, sono Davide, responsabile ATEX della RIDART. In questo video vi parlerò delle valvole flottanti. Vengono installate sulle linee di recupero vapori e polmonazione dei serbatoi. Questa è un esempio di valvola che viene installata sul tubo di equilibrio. Quando il liquido all'interno del serbatoio sale, la pallina prosegue e chiude la possibilità di uscita dello stesso. Il modello più richiesto è la 1010 NP. Al suo interno c'è un rompifiamma certificato per le deflagrazioni di linea. Anche su questo modello abbiamo un galleggiante. In base alla tipologia di applicazione che avete, si può avere in alluminio, acciaio, alluminio ricoperto in teflon. Il galleggiante può essere in poliuretano, polipropilene o acciaio inossidabile. Le guarnizioni, EPDM, Vyton e Teflon. Questa versione è in alluminio ricoperta in teflon. Guarnizioni in teflon, galleggiante interno e polipropilene ed è dotata di un fermafiamma certificato per le deflagrazioni di linea. In base al tipo di applicazione che avete, potete scegliere il materiale più opportuno. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo quando progettate o installate un impianto, la sicurezza deve essere il vostro primo obiettivo. Installate i prodotti certificati, possibilmente con un rompifiamma al loro interno. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e non esitate a contattarci per qualsiasi informazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.